La perturbazione proveniente da nord-est porterà nevicate anche in pianura sulle regioni centro-nord, ma anche pioggia su gran parte del paese. Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha dunque emesso un'allerta meteo che prevede, dalla tarda serata di oggi, nevicate inizialmente sopra i 200-400 metri e successivamente in calo fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Lombardia. La quota neve si attesterà invece sopra i 300-600 metri su Toscana orientale, Umbria e Marche con apporti al suolo da deboli a moderati e al di sopra dei 700-900 metri sulle zone appenniniche di Lazio, Abruzzo e Molise con apporti al suolo da deboli a moderati.